Nel fine settimana il tempo sulla regione sarà condizionato da una depressione in movimento dall'Italia ai Balcani. In particolare nella giornata di sabato affriranno in quota correnti umide, ma questo riguarderà gli strati alti, per cui avremo una nuvolosità variabile sull'intera regione, mentre nei bassi strati affrirà Bora, che sarà moderata in pianura, sostenuta sulla costa, dove in serata però sarà addirittura forte con geografiche che potranno anche toccare 100 km orari a Trieste. Temperature massime intorno ai 21 gradi circa su pianura e costa, minime intorno ai 13 in pianura, 15 sulla costa. Nel Tarvisiano probabile cielo in prevalenza coperto per tutta la giornata. Nella giornata di domenica la depressione si porterà sui Balcani, avremo cielo coperto probabilmente al mattino con la possibilità di qualche debole pioggia sulle zone orientali, dove soffierà vento da nord-est irregolare, con raffiche che potranno anche essere sostenute sulla costa. Per quanto riguarda la giornata avremo variabilità, quindi un miglioramento sulle zone orientali, mentre su quelle occidentali potrà formarsi qualche cumulo, qualche annuvolamento che potrebbe dare sulle prealpicarniche qualche locale rovescio. Temperature massime intorno ai 20 gradi in pianura, 18 sulla costa. Nel pomeriggio il vento sulla costa sarà un moderato borino. Per l'inizio della prossima settimana avremo cielo in prevalenza nuvoloso o coperto, con temperature più basse rispetto alla norma della stagione. Probabilmente da martedì ritorneranno piogge e anche bora sostenuta sulla costa. Dall'osservatorio metro regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.